Grazie a tutti. Riterrei se siamo d'accordo di procedere, quindi una prima votazione se siamo d'accordo a fare queste votazioni per alzare di mano. Chi non è d'accordo? Chi non è d'accordo? Si astigne? Grazie. Allora procediamo con le votazioni per alzare di mano. La prima è quella del segretario generale Francesco Cavallari.